Vabbè, sai quanto sono innamorato della musica, no? Ma cazzo, hai scritto una canzone, non me l'hai fatta sentire, io sono il tuo compagno di banco. Forse dobbiamo suonare insieme. Certo che dobbiamo suonare insieme. Questa è la nostra estate. Estate 1992, estate degli 883. Mauro, ho avuto un'idea geniale. Guarda Hanno Ucciso L'Uomo Ragno, la leggendaria storia degli 883. In streaming solo su Now. Grazie.